per tutti ragazzi e ragazze benvenuti in questo nuovo video siamo con gabrie 99 ita se non c'è capito l'arabo infatti certo signore e signori ragazzi e ragazze perché sono i nostri fanciulli danno anche male o c'è uno del mio stesso livello che abbiamo se succede qualcosa vi faccio sapere se troviamo qualcosa di bello di bello che cazzo io lo faccio oh mitraglietta blu questa rimette come audio solo audio per iniziare mitraglietta blu è molto comoda pompa verde del nonno ma vabbè io mi tra l'ho già stato di 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 così cattivi battimenti l'anno no come c'è io sono capri una cesto ma fatto tre ciosi mitraglietta blu arriva arrivando a me e da me sono morto da un bot ti rendi conto che vergogna no dai seriamente arriva arrivo o cazzo aspetta spaccando un muro perché si è così lontano ma ma non c'è ma non c'è ma non c'è per colpi lo cazzo è neanche ma tutto a base al mio giusto boss da me da mi entra entra la capa in qui da me il botto qua sopra è il botto bosco una pistola mi ha distrutto fatto è il ciotto colpo normale il ciotto sky ha eliminato sky ha eliminato gabbina che qualcuno si è fatto uccide da sky arriva arriva uno sta che arrivo da calcola che ci serve la trasformazione c'è l'ha preso le cose del bunker il tato la terra no è scagnozzo con l'altro il dato 19 ma anche l'ha ucciso lo scagnozzo siamo degli infami e infatti arido poi è tutto blu ciao blu con i tuoi occhi gialli no gli scudini bellissimi fanno scendori e dobbiamo trovare la trasformazione la trasformazione ma che stronzo la metti come clip certo metto tutto io mi dico che posso fare quello che sto pensando no te stai pensando male dai voglio entrare nella porta mentre nuoto oh ci sono riuscito sono un bomber ragazzi 100 like per questa mossa 100 like dovete obbligare tutti quelli che conoscete a iscrivervi a iscrivervi a iscrivervi vengo la e poi sparogo che cosa pompa crivellata tessera piada vai merda c'è l'elicottero e c'è la barca quanto siamo birri abbiamo anche una jump apri volati un bunker apri divano direttamente ad esempio ma via 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 dai abri di sesamo via 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 la epica non ci credo cosa fa leggendario hai spazio se hai due cosi puoi prenderlo spazio se hai due cosi puoi prendere lo sparabendio ehm c'ho però c'ho il medikit quindi direi di no ehm c'è chi non lo vuoi ho sacrificato la mia mitraglietta via c'ho i camperini eh no prendi la barca ah la barca ok 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 dai buttali buttali vieni 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 dai scar corri sali 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 via 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 davvero per un attimo mi si era bloccato via 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 e il tiro micro carica format era abbondato dai 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 massimo potere la nostra nuova barca è diventata una macchina a tutti vuoi fare lo studio io mi faccio la vita con questo che tu fatti scudo aspetta che mi faccio il medikit io non ho una mitraglietta questa cosa di triggiera però ci ha salvato il pallone sparabelle quindi ma sono africano si legge dal nome sono per cannes ragazzi speriamo il meglio questa partita ho comprato il cervello dai cinesi dai cinesi dove dobbiamo andare però c'è scritto made in africa sta cosa mi accadde anche santo che liberato che l'ho buttato non c'è nessuno lo prevede nella fase allora come fare certo che sento bunker l'ulta di di merda joystick poi l'altro salto lanciano qui va qua si lanciano qui sul lato va così ci spingono molto 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 più lontano più lontano cartoni morti o chi sta triggiando che 199 municini da ricaricare oh oh pompate pompate buongiorno mi dai un colpo da colpo da r1 ok perché non la migraia stanno il cammino ha aumentato viola aspetta e tendo 1 1 preciso bravo che aiutano da ricaricare non sono triggierà ok anche secondo me ha fai capo lì vedo anche una cosa epica però è così o la cappa io a te la cappa non è lo scarlo non te lo sei cambiato no ecco lì ecco lì vediamo poi no se è fottuto salita i saliti facca io ho sceso nello spagliare mi ha spaccato per i conti distrutto dove è stato sta in mezzo di spuglia è cosa non mi caso stupido eccolo eccolo vuole vuole spugli vuole buildare vuole buildare è che ho buttato giù sempre sopra come sempre tenuto sopra di te non l'ho aiutato non so come amico se questa è una grave offesa quello che ho fatto quale vuole lo sento vuole far build fight no io eccolo sta qua sotto 36 tipo io ho fatto 50 morto 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 perché aveva una scuola non c'è l'avevo sto passando siccome se aveva degli scudini questo mi fa un favore anzi di colpe salto perché ne ho 79 da ricaricare prima io ma da fuori zona da fuori zona che coglione ma guarda sto l'hammer è morto mio ma che cavolo mi ha rubato tutti no no l'avevo ucciso io ho tirato 75 75 d'arco di giovanna l'arco di giovanna signor io ho un po anzi io andrei anche a luccare a sicuro calcolare che la safe sta avanzando quindi no io ho l'arco ma faccio schifo col bar nella prima partita ragazzi infatti vabbè avete visto siamo morti è infatti abbiamo e dopo che abbiamo quindi speriamo cita città adesso moriamo cinchina da da 4 mila metri uno c'è appena sconato quei glitch da sottoterra si un po che fa 7.000 dicevano barretta lo barretta barretta di cioccolato 75 merda scompagna da sinistra non so come ho fatto a misarlo l'altro non so dov'è sinistra sinistra spara tutti io fai to tutti io credo eccolo è ancora lì stanno ricongiungendo ma dai ma che mi fanno mi sparate pensavo non mi sparate costano da di là ci vogliono a panino ci vogliono fare un panino da destra allora allora no allora no allora no guardi signori andate avete rotto le palle piazzato la jump se vuoi venire arrivo dove sta dove sta sta jump è lì lì bravo dove eccolo qui tutta la mia vita per te ma guarda io spero soltanto in quell'aibro ai drop uguale speranza un lec una preghiera un lec una preghiera per noi guarda lì col cecchino ancora ma che dal di là dal di là lo sapevo ecco ecco lì ma però però dai se continuano a spammare dietro dietro no mi sa provi di no corri corri fallo per il mio amico non mi fa riferimento potrai morendo ai 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 come provano a killarci buttami giù e abbida bravo ecco l'eccollo stanno l'occhio mi dispiace mi sai che non posso build inferno resta ora resta ora resta ora spera oddio scusa ok ho fatto non spammate quanto manca un like una preghiera signori una preghiera un like quello quello che sta usando lo sparo verde come ha ucciso l'altro di nuovo di nuovo vabbè ragazzi questa la metti dai vabbè ci mettiamo ragazzi hanno fatto il panino dai hanno fatto troppi panini i panini sono buoni sì però dai allora ragazzi se il video di like iscrivetevi se non vi è piaciuta mettete like iscrivetevi e se non lo fate